la parola nei nostri ospiti che ci hanno eh raggiunto eh che è scrittrice e che eh oltre a essere una scrittrice di romanzi ha però anche è autrice di articoli sul tema sicuramente anche della memoria del colonialismo italiano eh è autrice anche di un libro assieme a Rino Bianchi che proprio eh racconta la Roma eh negata dal punto di vista appunto di questa storia. Alessandra D'Arquini invece docente eh appunto di storia all'Università della Sapienza che eh si è confrontata con l'eredità del fascismo e che quindi eh leggerà quella pagina di storia. Io comincerei anche per una questione cronologica dal colonialismo e quindi dai Gia Bascego eh alla quale intanto grazie Giaba di essere con noi benvenuta ehm abbiamo deciso di suddividere in questo modo gli interventi. Giaba avrà mezz'ora di tempo per parlare dopodiché ci sarà una prima tornata di domande chiaramente magari un breve di una decina di minuti dopodiché la stessa cosa faremo con Alessandra Tarquini una mezz'ora di speech e poi apriremo nuovamente il dibattito che in questo caso però può proseguire chiaramente tenendo assieme entrambi gli spunti finché diciamo non faremo mezzanotte però insomma finché ci sono domande da parte vostra. Allora Giaba ti ti passo la parola grazie mille ancora per essere con noi. Allora buonasera a tutti e a tutti sono molto felice di essere qui con voi anche purtroppo a distanza questa cosa questa frase ormai la diciamo tipo late motive però è la verità cioè speriamo appunto di di rivederci anche guardando un po' Roma intorno intorno a noi. Io sono sempre affascinata dalla città in cui sono nata perché è una città che ho sempre visualizzato come una specie di torta di nozze no eh fatta a strati e noi percepiamo di solito anche lo strato più turistico o addirittura quello in cui magari uno vive il proprio quartiere il proprio nucleo però Roma veramente mischia le epoche sono sovrapposte e sono una accanto all'altra e soprattutto una diventa mh discorso dell'altra e questo ve lo spiego soprattutto sulle tracce del colonialismo italiano. Io spero che posso poi farvi vedere qualche cosa perché avevo preparato delle slide su Dogani però ve le farò vedere dopo. Allora Roma è stata una città fascista è stata anche una città colonialista noi ce lo dimentichiamo cioè il colonialismo storico inizia verso il metà ottocento con l'acquisto della baia di Ashab poi l'Italia si prenderà l'Eritrea poi mano a mano la Somalia e la Libia e e infine l'Etiopia che non è una colonia. Badate bene in Etiopia c'è stata soltanto soltanto poi un'occupazione militare feroce però occupazione militare. Chiaramente questa storia condivisa con il nord Africa e la parte del nord Africa ha lasciato delle tracce nella toponomastica nell'architettura in luoghi in cui uno non penserebbe mai. Io per esempio noi tutti passiamo alla stazione Termini cioè la stazione io spesso penso alla stazione Termini come il centro costitutivo della città perché è luogo di passaggio è luogo di arrivo è luogo anche di migrazione infatti intorno alla stazione Termini fin dagli anni settanta ci sono stati i primi nuclei di migranti Somali e Eritrei provenienti da quelle ex colonie. Molte persone non sanno o hanno lo hanno saputo di recente che quella piazza piazza dei cinquecento si chiama così da una battaglia coloniale che vi farei vedere una battaglia però non si share screen si non sono abilitata però dopo magari qualcuno mi abilita. Roberta ti può abilitare penso. E da una battaglia coloniale è avvenuta appunto in Africa orientale in Eritrea dove una colonna eh di italiani che doveva eh in qualche modo eh supportare un fortino assediato viene in qualche modo intercettato dai partigiani eh dai partigiani africani e e a quel punto c'è questa battaglia eh in cui per Iranno un bel po' di persone un bel po' di italiani e di Ascari e che erano comunque combattevano con gli italiani erano soprattutto Ascari Eritrei e Somali e mh questa battaglia è stata una disfatta totale no? eh e soprattutto un non considerare la situazione in cui si era una delle solite battaglie che si perdono per presa pochismo perché non hai pensato che il nemico che non è il nemico in questo caso un partigiano ha ha una strategia. Sa di fatto che muoiono parecchi italiani che dice duecento che dice trecento per la retorica e per la propaganda diventano cinquecento. Perché diventano cinquecento? perché in qualche modo eh il governo di allora ha bisogno di trasformare questa questa disfatta in un martirio no? Non è più la sconfitta militare ma è l'eroismo degli italiani martiri che sono andati lì a portare la civiltà ma sono stati in qualche modo eh sconfitti dal fato non dalle truppe partigiane ma dal fato avverso. Quindi si si crea una una sorta di storia retorica su questo e mh e questa storia retorica eh effettivamente non non ha è molto interessante questo che c'è c'è ci sono Matilde Serau che scriverà cioè ci saranno molti degli intellettuali italiani che scriveranno del dei martiri di Dogali ma mh alcuni soldati che molti soldati avevano da ridire sul comportamento degli ufficiali eccetera eccetera. Cosa c'entra questo con la nostra città? C'entra molto perché eh la piazza della stazione Termini si chiama piazza dei Cinquecento e i Cinquecento sono i soldati di Dogali e lì vicino un tempo eh la stella si trova davanti alla stazione adesso si trova tra piazza della Repubblica e e e la stazione Termini non so se l'avete mai vista e quella stella abbandonata dove è dietro le bancarelle c'è questa stella che ha un basamento ottocentesco e chiaramente lo abbandonata è anche piccolo tra parentesi aspettate che eh leggo la batteria perché sennò scompaio e e quindi non so se l'avete mai notata cioè è un luogo ehm è un monumento che nessuno guarda forse il più negletto di Roma è il più sconosciuto però che ha avuto una storia una storia con non soltanto adesso ti sentiamo cosa è successo eh sei stata mh frizzerata per pochissimo tempo ok ok non so perché e e praticamente eh vi stavo dicendo che la stele eh di Dogali e comunque i monumenti legati a questa battaglia li troverete un po' in tutta Italia e a Firenze si trova a Santa Maria Novella vicino alla chiesa di Santa Maria Novella tra stazione e hotel Baglioni troverete questa stele dove eh sono indicate tutte le battaglie coloniali dalla Libia ad Adua a Dogali e un po' in tutta Italia troverete delle targhe eh dei ricordi dei nomi di caduti e qualcuno è qualcosa che è entrato nell'immaginario appunto perché era un immaginario legato molto alla propaganda questa cosa è è stata molto interessata e sapere la storia del del perché hanno fatto questo monumento ma sapere anche la storia del monumento cioè ehm prima si trova davanti alla stazione se e se adesso posso essere abilitata ve lo faccio vedere ecco adesso sì eh perché ho trovato scusate che questo è aspettate un attimo eh vado un po' avanti con delle slide eh perché questo è eh io ho ho parlato di di Dogali all'inizio del mio libro e ecco questa è la è la foto della della battaglia e mh chiaramente qui vedete già la retorica insomma e questi sono bei soldati questa era la stazione Termini questa cosa questa è il giorno dell'inaugurazione di questa stele e la stazione Termini non assomiglia a quella che abbiamo oggi devo dire che è più carina in un certo senso perché quella che abbiamo oggi è stato un rimaneggimento di periodo fascista del periodo del dopoguerra un po' segue le linee del diciamo del razionalismo insomma è una bella stazione però qui sembra quasi il museo d'Orsay la gara una gara parigina no quel gusto molto ottocentesco e mh e vedete che la stele non si trova dove è oggi ma si trova davanti alla stazione e mh nel tempo è stata spostata e non piaceva molto soprattutto non piaceva il fascismo perché comunque era una considerata una 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 sconfitta militare cosa è successo durante il fascismo è sempre stata teatro di commemorazione eccetera quando l'Italia conquista ehmè conquista l'Etiopia con quella guerra sporca fatta con i gas e le torture e le stragi e cosa viene viene messo davanti a questa stella viene messo un leone questo qua che è il leone di Giuda e che leone di Giuda sapete il simbolo è il simbolo dell'Etiopia questo leone di Giuda è uno dei dei bottini di guerra che l'Italia ci metterà un sacco a restituire all'Etiopia uno è questo e uno è la famosa stella di Axum qualcuno di voi se la ricorderà l'avrà sicuramente vista che è stata restituita all'Etiopia soltanto intorno agli anni duemila ecco questa eh questo leone sarà restituito un po' prima negli anni settanta perché appunto Aldo Moro eh in occasione di una visita in Etiopia si rende conto del proprio che c'è un contenzioso tra Italia e Etiopia c'è perché lui era stato ricevuto molto bene dall'imperatore di Etiopia e le salassie quindi a un certo punto cosa fa Aldo Moro e invita eh l'imperatore di Etiopia a Roma e questo è a Roma e in Italia e sarà un giro abbastanza incredibile perché eh appunto va andrà a Roma andrà a Orvieto visiterà la Fiat a Torino visiterà Milano poi prenderà addirittura un vaporetto a Venezia insomma una visita in cui molti soldati che hanno fatto la campagna di Etiopia vanno a vederlo ma molti italiani vanno a vederlo perché eh voi dovete sapere che eh oltre il colonialismo no cioè l'Italia ha colonizzato la pezzo un pezzo di Africa importante però gli italiani stessi sono stati colonizzati dalla propaganda coloniale questo che significa che mattina sera colazione pranzo cena era tutto Africa orientale Africa orientale Africa orientale e e questo si vede dalla toponomastica ma si vede dai giochi si vede da dai film che sono stati fatti dalle canzoni no dalle famose faccetta nera a una una canzone che si intitola Topolino in Abissigna quindi veramente c'era c'era molta Africa no? Ehm e quindi quando arriva l'imperatore a Roma eh tutti tutti escono ci sono delle foto che che purtroppo non non ho qui però sicuramente le trovate sul web di dell'imperatore ricevuto da Saragat da Pertini e e da Aldoboro naturalmente e c'è la folla di italiani che lo vede dice ma è così basso non ce l'ha non ce l'aspettavamo così basso però eh in questa visita è stato molto interessante il fatto che hanno evitato di fargli vedere la stella di Axum voi sapete che per arrivare di nuovo nella connessione ok che per arrivare da da al Colosseo da si deve sempre quasi sempre passare eh per piazza di Porta Capena e loro hanno fatto tutto un giro pazzesco per non fargli vedere non fargli vedere la stella un'altra cosa che vi posso dire di questo monumento è che all'inaugurazione io sono andata subito al fascismo però a a lì prima appunto questa battaglia ha fatto molto parlare gli intellettuali italiani eh ma i più importanti da Pascoli e d'Annunzio e d'Annunzio la cita nel piacere eh perché appunto c'è questa famosa frase per quattrocento brutti morti brutalmente che fa che metterà in bocca ad Andrea Sperelli e sarà appunto con con creerà il caos ecco questo per me è sempre stato adesso esco un po' dalla dalla presentazione è è sempre stato un molto interessante no capire quanto questa storia è nascosta ai nostri occhi no cioè noi abbiamo queste tracce e sono tante in città e però non le riconosciamo più mi è piaciuta la parola che ha detto Graziano Graziani prima risemantizzazione perché è quello che dobbiamo fare noi abbiamo delle tracce tracce eh storiche e penso a via dell'Anbaradam no che ha questo nome legato alla battaglia coloniale penso alla ponte Duca d'Aosta non so se siete stati mai al Vaticano eh dove dove ci sono ancora ben presenti i fasci littori dove si parla dell'Ambalaggi e abbiamo non so se siete stati al palazzo che un tempo era il palazzo della gioventù italiana del littorio a largo a scianghi ecco ehm eh lì si fa spesso si fanno anche delle manifestazioni anche teatrali si fa short theater ed è stato molto interessante durante appunto short theater che appunto entrando in questo bellissimo palazzo eh in stile razionalista entrando una delle prime cose che vedi avanzando un po' è una enorme enorme mappa dell'Africa vuota completamente vuota con solo segnati e i possetti non nemmeno ma nemmeno tutti solo l'Etiopia e accanto le battaglie eh le battaglie coloniali quindi Macallè, Adua eccetera eccetera no? Ed è una mappa in cui durante i giorni del teatro eh appunto della manifestazione teatrale un gruppo di di studiose di studiose e femministe hanno proiettato delle domande tipo dov'è la Somalia? Perché questa mappa è vuota? Perché c'è stata la guerra in Etiopia? Cioè delle domande per far vedere l'Africa e far vedere questa mappa dell'Africa perché sta lì? Cioè le persone magari andavano a vedere una manifestazione, una performance, un monologo teatrale però questo proiettare sulla mappa li faceva fermare un attimo e cominciava a riflettere no? Cominciava a riflettere perché la mappa stava lì? Perché il lago ha un nome legato all'Africa? Che cosa era successo? Quindi in un certo senso secondo me la risemantizzazione è molto importante soprattutto oggi, oggi si parla molto di statue, molto di tracce, molto di di toponomastica un po' in tutta Europa e negli Stati Uniti. Voi sapete tutto il dibattito che è avvenuto dopo la morte di George Floyd negli Stati Uniti. George Floyd, ve lo ricordo, era stato ucciso da un poliziotto soffocato appunto lui con il piede del polizio, il ginocchio del poliziotto sul collo che non riusciva a respirare e il suo non respirare sembrava proprio il non respirare di molti afroamericani e latinos che non riuscivano in quei giorni a curarsi. Cosa è successo con Black Lives Matter ma non dal 2020 ma da prima anche e perché è un movimento che esiste da prima che comincia, si comincia a parlare di spazio urbano, in quel caso statunitense, uno spazio urbano che è punteggiato di statue di confederati, di chi ha voluto la schiavitù, di chi ha perpetrato la schiavitù e loro si sono domandati cosa facciamo con queste statue soprattutto perché erano statue non d'epoca ma stato anche recenti di inizio novecento eccetera. Molte di queste statue sono state rimosse e sono state rimosse con richieste al comune, sono state abbattute nella furia appunto rivoluzionaria. Ricordate le immagini di quello di Bristol, di Edward Colston, della statua di Edward Colston che è un uomo che ha fatto fortuna con la schiavitù anche perché Bristol era una città inglese che in qualche modo era una dei pilastri della tratta atlantica. Ecco abbiamo tutte le immagini di questo di questa statue abbattuta poi fatta arrotolare poi gettata in acqua e mi vedete ancora sì perché ogni tanto fa ci sono delle cose. E quindi è questa la strada che dobbiamo seguire a battere i monumenti? Dipende, io penso di no e soprattutto penso di no rispetto al nostro tipo di panorama italiano. Comunque qui c'è stata una storia violenta, storia del fascismo, storia coloniale ma anche storia soprattutto del fascismo. Abbiamo delle tracce tossiche come l'obelisco Dux al Foro Italico di cui non vi parlerò io però è chiaro che ci sono altri tipi di tracce che però possiamo secondo me risignificare. Risignificare penso soprattutto al quartiere africano che oggi ha tutti quei nomi dell'Africa orientale e gente che vive a via appunto via le Somalia quanto a via le Libia no? Io addirittura ho visto via Kismayo, Kismayo è una città della della Somalia, il giorno che ho scoperto che c'era via Kismayo a Roma ero era abbastanza in senso scioccata positivamente. Però ecco è chiaro che quella la genesi è coloniale, la genesi è fascista ma forse oggi abbiamo l'occasione di trasformarla in qualcosa altro no? Cioè magari coinvolgendo le comunità migranti, facendo dei lavori con le biblioteche di quartiere, facendo i lavori con le scuole. Quindi secondo me c'è sempre caso per caso. Ci sono dei monumenti tossici in cui veramente non puoi fare niente. Noi abbiamo un caso nel Lazio che è quello di Affile che non puoi risemantizzare in nessun modo perché è un monumento moderno nato nel 2012 dedicato a un criminale di guerra, Rodolfo Graziani, che era considerato il macellaio di varie guerre del Fezzan, dell'Etiopia, quello che ha ordinato la famosa strage del 19 febbraio di Addis Abeba dove veramente è morta più della metà della cittadinanza e aveva dato l'ordine dopo l'attentato che aveva subito di far uccidere dei diaconi a Debra Libanos. Ecco abbiamo un monumento nel Lazio dedicato a questo criminale di guerra. Ci sono state petizioni, manifestazioni eccetera. È stato tolta la dicitura, cioè la diciamo il quadro, c'era solo un quadro dentro il sacrario, però tecnicamente il monumento sta ancora lì, no? Ed è un monumento fatto per un motivo molto molto preciso, trasformare quella città a file in una predappio del Lazio, in una sorta di luogo nostalgico ma anche luogo di ricreazione di cose che non vorremmo vedere. Allora è chiaro che lì tutto questo è stato fatto con i soldi nostri, dei contribuenti della regione Lazio, quindi poi il finanziamento è stato bloccato, per fortuna dall'aggiunta Zingaretti eccetera, però il problema è che ce l'abbiamo ancora lì. Quello è qualcosa di tossico che va tolto, lì non c'è risignificazione da fare, però sulle tracce invece storiche un lavoro si può fare come? Sul monumento di cui vi ho parlato, su alcune rinominazioni di alcune strade, per esempio via dell'Ambaradan. Chiaramente non lo devi fare dall'alto, cioè io ho sempre questa, su questo possiamo anche dopo un po' discutere, non puoi calare dall'alto la decisione, adesso ti cambio il nome della strada, ho deciso io, non va bene. C'è sempre un secondo me un lavoro collettivo da fare, un lavoro con la cittadinanza, con chi quella strada la abita, ma soprattutto anche con la città intera, perché le risignificazioni non possono essere fatte in solitaria, con non è una roba di, scusate il termine, di gruppettare che ti metti là e decidi, no, è una roba che può far crescere la cittadinanza. Quindi è molto importante secondo me anche quando uno pensa di cambiare il nome della strada di fare un lavoro collettivo e quindi si sta molto discutendo, no, su su cosa fare con le tracce storiche. Io la cosa che ho sempre pensato in una città come Roma, che è punteggiata di facilittori, è punteggiata di storie e forse il primo step è conosciamo queste tracce. A me è molto meravigliato perché il libro che ho fatto con Rino Bianchi del 2014 e oggi si parla molto di questo argomento, mi ha meravigliato il fatto che comunque solo dopo tanti anni si comincia ad avere una leggera consapevolezza, no, di quanto, di quanto si deve fare. Poi un'altra cosa che è importante secondo me, oltre a conoscere il passato, è anche fare una sorta di monumentistica, io dico riparatoria in qualche modo, no, perché comunque, e rubo gli ultimi minuti per dirvi questo, noi abbiamo un vuoto nella nostra città che è Piazza di Porta Capena, se ci passate con la macchina, col motorino, con l'autobus, voi vedrete lì delle due colonnine disperse nel vuoto e queste due colonnine, non so se avete mai pensato che cosa sono, io un giorno ci ho pensato, sono andata lì alla Liola per vedere che cos'erano, è un monumento dedicato all'11 settembre e io ho pensato, ma nessuno di noi romane, romane, sa che abbiamo un monumento all'11 settembre perché è veramente nel vuoto più totale e soprattutto la cosa che ho pensato è che in quella piazza, non è lo stesso punto, ma in quella piazza un tempo c'era stata la stelle di Axum che Mussolini aveva fatto portare dall'Etiopia, quindi dal nord dell'Etiopia, una città ahimè che ancora oggi è teatro di strage, di disastri purtroppo, però si è portato da quella città un obelisco, una stella, un obelisco, a imitazione augustea perché poi Mussolini aveva questa, non amava Roma, lui non l'amava ma la usava perché comunque Roma è un grande brand alla fine e la cosa che era importante per lui era avere, essere come gli imperatori romani ed essere come l'imperatore per eccellenza che è Augusto e Augusto, i romani sapete Roma è la città degli obelischi in un certo senso perché comunque erano bottini di guerra e non è che stanno lì a caso, sono bottini di guerra, quindi l'idea era di avere la sua propria stele e poi c'era anche un disegno urbanistico della città che si aveva in mente, un disegno che doveva unire la Roma antica, quindi la Roma dell'impero, alla Roma fascista, alla Roma dell'esposizione universale che poi non sappiamo, non è mai avvenuta, che è l'Eur e il disegno era molto chiaro, no? Via dei fori imperiali, una via fatta apposta per le parate e lì c'era un quartiere stato completamente diverto, distrutto e uscito fuori questa strada e il Colosseo e piazza di Porta Capena con il suo obelisco che andava poi verso diciamo l'Eur doveva essere quasi no un punto centrale e lì accanto ci doveva essere il museo, il ministero delle colonie perché prima si era molto discusso se il ministero delle colonie doveva essere a Palazzo Chigi all'inizio e poi è stato invece pensato appunto di portarlo là, di farlo là, poi il palazzo sarà poi finito nel dopoguerra però è diventato il palazzo della FAO, però ecco era un luogo simbolico. Quando io parlo di monumentistica riparatrice, insomma, cosa significa? Significa che in quel posto secondo me ci dovrebbe essere qualcosa, che ricordi? Scusa, scusa, involontariamente, scusa, grazie Giabba, scusa. No ho capito, l'ultimo minuto e praticamente lì ci dovrebbe essere un secondo me qualcosa e in generale oggi c'è la street art, potremmo veramente fare tanto, cioè anche come nel Medioevo che le cattedrali servivano per raccontare una storia, raccontare al popolo qualcosa. Ecco, secondo me sarebbe bello che nei muri, soprattutto in periferia, raccontassero questa storia un po' negata, molto negata, ma anche molto nascosta e molto dimenticata del colonialismo italiano che appunto è un po' dappertutto. Per il resto, insomma, io vi ho fatto un po' di esempi, ho parlato un po' a braccio perché comunque sono cose che ormai mastico da una vita, però sarei molto curiosa poi quando ci sarà il dibattito di rispondere a tutte le vostre curiosità e soprattutto di sapere la vostra opinione su cosa fare con i monumenti della nostra città, come risemantizzare, risignificarli, come metterli in circolazione, come non... per esempio, cosa fareste voi? Lascio questa domanda col balcone di Piazza Venezia. Grazie. Allora, grazie Giaba. Facciamo una piccola... è molto interessante il tuo intervento e devo dire che mentre parlavi di come risemantizzare anche, diciamo, gli aspetti più ingestibili come il monumento di affile, mi veniva in mente, questa è un po' la parte più ludica che dovrò poi fare io all'interno di questi percorsi, la proposta di un fumettista come Daniele Caluri che per quanto riguarda il mausoleo di Ciano, e siamo in Toscana, che ha una forma un po' strana, inquadrata, ha proposto di ridipingerlo come il deposito di Zio Paperone, quindi sostanzialmente quasi prendere in giro una forma seriosa, se dato un'occhiata sul web esiste anche la sovrapposizione tra questo simbolo, diciamo, dell'immaginario collettivo che riguarda appunto il mondo Disney e sovrapposto quasi a forma, diciamo, non solo di sbeffeggiamento ma proprio di addolcimento cioè di deposizione delle armi di quello che è un simbolo belligerante appunto che viene da una retorica fascista che viene invece per l'appunto rivista alla luce di un immaginario collettivo anche legato ai miti dell'infanzia. Allora, io quello che vi chiederei è di utilizzare la chat per prenotarvi per le domande, facciamo una piccola inversione forse anche per non smontare il tono quindi darei subito la parola ad Alessandra Tarquini, sfruttiamo questo momento per prendere le domande quindi per creare una lista di domande, Roberta insomma le prenderà ma voi potete tranquillamente iscrivervi attraverso la chat e proseguiamo quindi sovrascrivendo per questo punto la lettura che ci ha dato Igiabba di Roma, della Roma coloniale con la lettura che ci darà Alessandra Tarquini della Roma fascista. Allora, così mi sentite e vedete correttamente? Tutto vado? Perfetto. Intanto grazie di questa opportunità, mi fa molto piacere partecipare a questa iniziativa insomma un po' per varie ragioni, lo ricordava Graziano, io ho studiato il fascismo e ho una particolare così, ho avuto un particolare interesse per il problema della città e dell'urbanistica fascista e di Roma in particolare perché ci sono nata, ci vivo e perché effettivamente Roma consente lo ricordava, lo ricordavate un po' tutti, consente di ragionare su tante cose che hanno a che fare con il fascismo, con il nostro passato, con che cosa significa vivere appunto in una città. Tutti voi ricordavate che il dibattito pubblico su questi temi, cioè sul problema di come oggi ricordiamo un passato, è un dibattito che è andato ben oltre l'Italia, che è riguardato appunto dalla statua di Gandhi a quella di Cristoforo Colombo, appunto si ricordavano i confederati. Eh è un tema che ci riguarda e ci attraversa, io vi ricordo che nel 1995 il l'aggiunta dell'allora sindaco di Roma Francesco Rutelli valutò l'ipotesi di dedicare una strada o una piazza a Giuseppe Bottai. Ora Giuseppe Bottai eh eh si autodefinì, si definì un fascista critico e così alcuni storici l'hanno definito come accaduto a molti fascisti che dopo l'esperienza fascista hanno in qualche modo minimizzato la propria appartenenza, la propria adesione al regime fascista, no? A parte che Bottai non è non era affatto un fascista critico ma a parte questo eh eh la politica appunto valuta l'ipotesi di dedicare una strada o una piazza ad uno che lega il proprio nome al fascismo, alle leggi razziali, alle leggi razziali nella scuola. Allora cosa fare, cosa dire, qual è il contributo che gli storici possono dare, ammesso che ne possano dare uno. Io credo che noi dovremmo riuscire ad immaginare la possibilità di evitare due eh banali, diciamo così, due radicalizzazioni. Cioè noi dobbiamo evitare da un lato di banalizzare il problema appunto, cioè quindi i fascisti sono brava gente, gli italiani sono brava gente, quindi in fondo che cosa ci sarà mai di male in un obelisco o in un monumento o in quello o in quell'altro, quindi banalizzare il problema come se non ci riguardasse e dall'altra parte però dobbiamo anche evitare di rimuovere il fascismo e tutto quello che porta il fascismo e quindi cercare di eh un po' lo accennava anche Giabba, cioè di conoscere, conoscere la storia, cioè conoscere come sono nati appunto questi monumenti, come, perché esistono, perché sono lì, qual è il rapporto che noi oggi vogliamo avere con il passato e anche qual è l'immagine che vogliamo dare e lasciare nel futuro, perché se noi decidiamo che l'obelisco x o y non resta lì, quello resta per l'appunto nel futuro. Allora eh Graziano secondo me giustamente sottolineava raccontando il il vostro progetto, no? Si parlava delle città eh e del fatto che in fondo la città è un luogo che consente una cosa molto difficile che altrimenti non ci sarebbe, cioè consente di vedere una cosa che non si può vedere e che è il passato, perché eh quel gli artefatti, quei monumenti, quei nomi delle strade diventano parte del presente, noi attraversiamo la città, vediamo appunto il nome di Tizio o di Caio e quindi tutta questa riflessione che stiamo facendo è una riflessione su come si costruisce una memoria collettiva e su che cos'è la memoria di una comunità, cioè che cosa vogliamo ricordare. Allora eh così solo per ricordarlo appunto questa riflessione sulla memoria collettiva attraversa vari campi di studio, il uno dei gli autori più noti su questo tema è Olvax, no? Olvax come lo vogliamo pronunciare e cioè un allievo di Durkheim, un sociologo francese che ad un certo punto ci dice guardate che la memoria non è solo una diciamo così un vissuto individuale. La memoria non è una scatola o un bagaglio o uno zaino. La memoria è una eh diciamo è il risultato di un'esperienza collettiva, è qualche cosa che noi possiamo anzi che noi costruiamo nel presente, è qualche cosa di mobile. Quindi intanto la memoria collettiva ha a che fare con le nostre relazioni sociali, con il nostro vivere e quindi anche con il nostro vivere diciamo così nella città, con il nostro essere in relazione con degli altri. Ecco Olvax dice una cosa di grande secondo me importanza anche rispetto al così al vostro progetto, cioè il fatto che la memoria non viene attivata soltanto attraverso il ricordo ma attraverso il potere dell'immaginazione. Cioè a dire che quello che noi vediamo in questi monumenti che ci circondano in questi pezzi di città che attraversiamo ci rimane addosso, ci appartiene perché appunto viene stimolato da quello che noi vediamo tutti i giorni. Allora se questo è così importante nel nostro caso di italiani e appunto sono molto d'accordo con quello che diceva Ijabba prima, nel nostro caso di italiani c'è un tema specifico che è quello dell'essere stati appunto fascisti. Quindi se il tema riguarda un po' tutti perché tutti ad un certo punto possono mettere in discussione un monumento che è stato rimasto lì tanti anni perché in quel momento quella collettività lo sentiva proprio no? Allora questo è un problema che può riguardare tutti perché una collettività, una comunità può cambiare, può cambiare idea rispetto al passato. Scopriamo che Gandhi era un mostro e che non era quel grande pacifista che abbiamo imparato a studiare e ci poniamo il problema che cosa facciamo con la statua di Gandhi? Allora nel caso specifico che cosa facciamo con il fascismo? Questa è un po' la domanda cioè che cosa come ci rapportiamo al fascismo? Quale rapporto abbiamo con il fascismo? Come che cosa pensiamo appunto come dicevo prima debba restare nel futuro? Intanto ci viene in aiuto la Costituzione perché l'articolo 9 della Costituzione italiana dice che il nostro dovere è tutelare il patrimonio storico artistico perché il patrimonio storico artistico è di tutti e quindi in quella tutela c'è uno slancio io credo democratico cioè il Colosseo o l'Eur o il Foro Italico sono oggi di tutti indipendentemente dalla nostro orientamento e quindi da un lato io credo abbia ragione Jabba quando dice noi non possiamo radere al suolo X o Y perché è fascista perché allora dovremmo buttare giù l'Eur o allora che cosa dobbiamo fare appunto del Foro Italico che viene costruito da Enrico del Debbio ed è una delle no delle rappresentazioni più evidenti di che cos'è stato lo sport nel regime fascista. D'altra parte abbiamo un problema. D'altra parte un problema ce l'abbiamo e come perché qual è appunto il nostro vissuto oggi rispetto a una celebrazione chiaramente fascista. E allora che cosa facciamo? Io penso che intanto cerchiamo di conoscere. Cerchiamo di conoscere la storia e cerchiamo di eh avvicinare ciò che è accaduto. Allora eh direi due cose intanto che l'urbanistica in generale è una dei settori più forti più spinti più importanti dell'intera politica fascista cioè dal ventidue al quarantatré eh come pochi altri settori eh i fascisti realmente ehm spendono energie eh soldi risorse per ricostruire o costruire delle nuove città. Questo accade con il contributo di autorevoli architetti eh e appunto urbanisti e se noi pensiamo appunto all'Eur che è stato nominato beh nella costruzione dell'Eur eh eh alla costruzione dell'Eur contribuiscono libera Terragni per il meglio del meglio dell'architettura razionalistica dell'epoca. Persone che poi molti di queste continuerà finiranno l'Eur perché l'Eur viene interrotto nel millenovecentoquarantuno e all'inizio degli anni cinquanta si riparte a ricostruire l'Eur e che come appunto diceva anche Giabba è oggi una sedimentazione di tante cose. Bene quella storia lì ci racconta il contributo di tutti questi di questi architetti urbanisti che partecipano a questo grande sforzo di trasformazione degli spazi pubblici. Allora intanto perché accade questo? Perché la trasformazione dello spazio pubblico rende classica, visibile, concreta una volontà politica che è una volontà totalitaria ehm che è il figlia di una politica certamente violenta ma che è anche molto moderna perché qui è la cioè una delle caratteristiche cioè questa spinta totalitaria non è in contraddizione con la propria con l'essere anche molto moderna e nell'architettura e nell'urbanistica noi questo incontro tra fascismo e modernizzazione lo vediamo in modo molto chiaro. È uno sforzo che che è molto forte negli anni trenta addirittura nel 1930 nasce proprio un istituto di eh urbanistica eh riguarda ovviamente non soltanto Roma riguarda tutte le città d'Italia riguarda le stazioni riguarda appunto la progettazione e la realizzazione anche di nuovi centri storici la trasformazione di quelli vecchi una certa razionalizzazione che per alcuni versi andava nel segno di eh interventi già cominciati in età umbertina alcuni erano iniziati una razionalizzazione delle città era era cominciato prima ma i fascisti danno a questa tendenza a questa a questa attività appunto un carattere chiaramente fascista riempiendo i paesi le città di simboli di eh diciamo appunto di immagini che ricordino che riportino gli italiani a quel processo di fascistizzazione della società e dello Stato che ossessivamente li segue dal ventidue appunto al quarantatré addirittura come sappiamo perché siamo perché siamo vicini fisicamente eh nascono cinque nuove città dalla bonifica delle pianure ehm pontine no da Sabaudia eccetera e come sappiamo appunto questo questa questa attività è molto evidente qui eh diceva correttamente secondo me Ijabba che i fascisti non avevano un buon rapporto con Roma Roma era considerata già allora la capitale del potere politico in senso dispregiativo era una città che era stata in mano ai nazionalisti con i quali i fascisti soprattutto in un primo tempo non avevano grandi rapporti e ebbero da sempre nei confronti della romanità un atteggiamento che possiamo definire strumentale cioè il mito di Roma è un mito caratteristico decisivo centrale della cultura e dell'ideologia fascista ma non nel senso di un recupero del passato fine a se stesso o di una attenzione diciamo così filologica ecco nei confronti di Roma della romanità e della cultura romana questa questa la centralità del mito di Roma e il diciamo così questa furia demolitrice e ricostruttrice è bene evidente sia nella realizzazione dei fori imperiali che appunto in quella dell'euro eh i fori imperiali lo sappiamo nascono eh stiamo parlando del 1932 dieci anni per festeggiare la marcia su Roma e l'euro sono venti anni l'euro e quarantadue significava esposizione universale romana appunto millenovecentoquarantadue allora vado veloce perché non voglio eh so annoiarvi per e prendere togliere tempo alle domande lì l'elemento importante in entrambi i casi è questo emersione di una romanità ripeto appunto ad uso e consumo viene distrutto il quartiere adiacente diciamo così l'attuale eh appunto mh piazza Venezia il quartiere adiacente al Campidoglio il l'allora ministro ehm dell'istruzione Pietro Fedele scrive al governatore di Roma lamentandosi del fatto Pietro Fedele insegnava storia medievale e scrive al governatore di Roma e gli dice ma scusate state distruggendo la Roma medievale il governatore gira la eh protesta a Mussolini e Mussolini risponde quasi testualmente dica al al senatore fedele che a noi di quattro latrine medievali non ce ne importa nulla non dice non ce ne importa nulla dice peggio allora il punto qual è questa Roma che cos'è che cos'è Roma quella vera e che cos'è il mito di Roma il mito di Roma era la proiezione di una universalità l'aspirazione ad essere ad avere un impero come quello romano ad essere questi nuovi romani della modernità che poi la vera storia di Roma nelle sue diverse fasi non avesse nulla a che fare con quello che i fascisti rappresentavano questo poco importava e così lo sventramento del centro della capitale d'Italia fa largo a questa grande arteria che deve collegare Palazzo Venezia a diciamo così al sud di Roma e quindi poi a Ostia e quindi poi al mare deve essere una grande arteria perché i fascisti sono moderni da questo punto di vista deve essere una una specie di grand boulevard o di grande appunto strada di scorrimento per ospitare le parate per ospitare le sfilate eh delle camicie nere e così l'Eur ora l'Eur nasce come una mostra esposizione universale romana doveva essere una mostra della civiltà che avrebbe accolto diversi i diversi paesi eh del mondo l'idea nasce proprio dopo eh la la vicenda etiopica nasce da un'idea dello stesso Bottai quello a cui Rutelli voleva dedicare una strada e eh e di fatto parte subito questa realizzazione alla fine degli anni venti nel millenovecento quarantuno si interrompe ora perché è importante intanto perché come accennavo partecipano alla costruzione dell'Eur che deve essere questa nuova Roma i più grandi architetti urbanisti dell'epoca eh coordinato da Marcello Piacentini l'Eur è una via di mezzo eh tra lo stile razionalista e il monumentalismo Piacentini lo chiama littorio eh non a caso dicevo perché è importante perché lì lo sforzo appunto della costruzione di una nuova realtà urbanistica raggiunge il il i vertici insomma raggiunge il massimo livello con citazioni del mondo romano continue appunto e ossessive e anche qui molto poco realistiche se voi ricordate eh le statue idioscuri che sono le state le statue che sono alla base del palazzo della civiltà del lavoro voi vedrete che i cavalli e gli umani sono alti quasi uguali eh allora è un superumismo se vogliamo di questo uomo nuovo fascista che avrebbe dovuto dominare il mondo e che per fortuna non lo ha fatto allora dicevo il mito di Roma la costruzione di questa nuova realtà che ha molto poco a che fare con la romanità il progetto sì il progetto i lavori si interrompono nel quarantuno quando ancora dei dei gli edifici eh gli edifici più importanti non erano terminati lo saranno più tardi e qui apriamo appunto la domanda sull'oggi perché lo saranno negli anni cinquanta e l'euro oggi è appunto una come tutta Roma una stratificazione dove noi vediamo chiaramente il nostro passato fascista e vediamo anche chiaramente tante altre cose allora come facciamo a decidere ciò che tenere ciò che non tenere se passeggiamo per Roma se qualcuno a qualcuno forse sarà capitato è è difficile perché questa strada si trova in una periferia nord molto periferia e cioè alla massimina esiste via paolo urano ora ehm via paolo urano ehm io l'ho vista per caso l'ho trovata mi sentite sì ti sentiamo bene ah ok no dicevo alla ehm massimina esiste appunto via paolo urano una volta ne parlammo con Graziano di questa via paolo urano via paolo urano è una strada piccola nessuno forse cioè forse la conoscono i i residenti o quelli appunto che conoscono e sanno chi è paolo urano ma facendo una ricerca su Google Maps oltre a via paolo urano potete trovare via Ugo Spirito via Giovanni Gentile via Massimo Bontempelli allora via Giovanni Gentile è l'apoteosi dell'ambivalenza della politica perché Giovanni Gentile è stato un filosofo come sappiamo di grande importanza uno dei più importanti filosofi del novecento certamente un fascista e allora io non so quale commissione toponomastica ha deciso questo ma gli è stata data una stradina piccola 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 dietro eh via Teulada che finisce in un garage via Ugo Spirito è un po' più grande anche Ugo Spirito come Giuseppe Bottai è uno che si è sempre definito un fascista critico ok ora il fascista critico è uno che ha partecipato alla costruzione del corporativismo fascista che ha avuto incarichi importanti che ha insegnato nelle università più importanti d'Italia è uno che ha scritto nero su bianco cose fasciste Paolo Urano lo citavo all'inizio Paolo Urano è uno dei principali sostenitori della politica razziale del fascismo nasce socialista come molti diventa eh fascista sindacalista ehm fondatore della scuola di giornalismo c'è un rapporto importante tra il giornalismo e il fascismo i fascisti sono molto attenti a formare i giornalisti perché i giornalisti devono parlare bene del regime scuola di giornalismo e università fascista di Perugia facoltà di scienze politiche nella quale Paolo Urano lavora e insegna cioè quello che in gergo si chiama un fascistone anche una persona per bene ma un fascistone va bene allora qui la domanda è perché dedicare una via a Paolo Urano per sciatteria perché in fondo ci siamo perché in fondo è stato è stato che cosa allora perché si dirà beh diverso però il discorso tra Giovanni Gentile e Ugo Spirito perché Giovanni Gentile e Ugo Spirito oltre ad essere fascisti sono stati dei filosofi importanti soprattutto Giovanni Gentile e allora qual è il modo attraverso il quale noi decidiamo queste cose come comunità come collettività come ci poniamo di fronte a tutta questa a questo passato che non passa e per fortuna forse non passa per fortuna nel senso che fa parte del nostro bagaglio ma per fortuna anche forse dovremmo appunto ragionare più in termini di conoscenza e di critica non so se sia possibile appunto come diceva Giabba risemantizzare cioè creare delle statue alternative ma forse un po' sì intanto ricordando ricordando la storia ricordando ciò che è accaduto e forse accettando che noi non possiamo trovare una regola comune non c'è un'unica io almeno così credo non so che cosa ne pensiate però non c'è una regola noi non abbiamo fatto bene a non distruggere l'eur abbiamo fatto bene a non distruggere il foro italico io penso di diverso è dedicare la via a uno che è stato fascista sul l'obelisco con la scritta Mussolini di sedici metri quanti sono lì forse qualche problema invece io me lo porrei insomma io credo che si debba valutare caso per caso si debba valutare volta per volta a seconda della realtà che ci troviamo di fronte per esempio il palazzo Gil di cui prima si parlava è un bel palazzo io credo abbia fatto bene il comune o chi ci ha messo i soldi a rivalutarlo a ristrutturarlo perché è un esempio importante di architettura e allora lo ristrutturiamo non ci nascondiamo che è stato fascista perché essere stati fascisti non significa non avere anche appunto realizzato grandi capolavori urbanistici e architettonici ma al contempo non banalizziamo il fatto che noi non siamo fascisti non vogliamo essere fascisti siamo anche molto così contenti di ripensare al fatto di essere i figli di una repubblica appunto democratica e antifascista grazie grazie no no hai parlato il giusto ti ringrazio perché è stato molto interessante entrambi i vostri eh interventi lo sono stati e sono ricchi di spunti quindi diamo subito un po' la parola eh eh e Flaminia ecco Flaminia Cardini pone un quesito che ha sempre eh diciamo agitato anche me cioè sulla Flaminia non so se vuoi dirlo a questo punto anche eh a voce ehm sì eh posso dirlo a voce sì mi chiedevo perché appunto il Gil attualmente si chiama Will Gil ehm e infatti questa diciamo che è una delle cose che eh lascia un po' sconvolti chi conosce quella zona di Roma no? Perché chi è sempre stato abituato a chiamarlo ex Gil per l'appunto ex gioventù italiana dellittorio che diventa di colpo Ui cioè noi gioventù italiana dellittorio Alessandra vuoi rispondere? Guarda io io me la so anche io come voi ho l'ho trovato un po' disturbante e me la sono spiegata così ma è una valutazione come dire assolutamente estemporanea perché noi passiamo dalla rimozione alla banalizzazione cioè noi passiamo dal dire che il fascismo quasi non esiste che gli italiani non erano fascisti che era fascista soltanto Mussolini quindi ad avere una una sorta di fastidio proprio per tutto ciò che è stato fascista al dire no ma vabbè ma va tutto bene quindi Ui Gil è Ui un cavolo cioè Ui voi no no noi U Gil allora cioè passiamo con grande disinvoltura e da operazioni appunto di negazione a a poi al fatto che ci va tutto bene quindi questo è la mia interpretazione probabilmente anche una trovata pubblicitaria chi lo sa cioè nel senso la comunicazione di questi di questi anni prevede anche un'identificazione una brandizzazione è un tentativo come dire di valorizzare i soldi pubblici utilizzati per recuperare quello spazio che è sicuramente meritorio ma appunto magari presumibilmente è stato uno scivolone un passo falso l'uso dell'inglese no che secondo me fa tanti danni se non usato male perché tecnicamente si usa l'inglese non si sa l'inglese in Italia no cioè usiamo tante parole inglesi e tutte le persone sanno veramente poco l'inglese quindi suona molto modaiolo Ui Gil secondo me e nasconde anche la non conoscenza delle storie del fascismo perché una cosa molto grave che vedo non è soltanto il colonialismo con il no che fa parte sia del fascismo che come vi ho detto di sudogali della storia ottocentesca del paese quindi della del periodo liberale però c'è proprio una ignoranza diffusa sul fascismo cioè proprio io questa cosa la noto e se ne parla molto ma si si conosce poco no e quindi secondo me c'entra molto con questo Ui Gil temo ecco dovremmo chiederlo alla regione Lazio ma abbiamo fatto come dire passare avanti giustamente questa domanda perché era legata all'ultimo intervento ora invece seguiamo un po' l'ordine diciamo di prenotazione abbiamo Agostino Letardi che era prenotato per primo che aveva una domanda Agostino ci sei? Sì sì ci sono sono riattivando le cose io ti do del tu spero che vada bene insomma abbiamo un laboratorio un lungo percorso davanti lo farei anch'io se fosse possibile visto che diverse persone qua dentro già ci si conosce e no il mio dubbio su alcune affermazioni sono state fatte in parte sono state anche già diciamo poi esposte anche nel proseguo delle delle esposizioni cioè a me quello che mette un po' dubbio è il discorso appunto di una cultura della cancellazione e considerando che appunto noi oggi stiamo parlando di un aspetto specifico è quello del colonialismo italiano che è sicuramente una ferita importantissima nella nella storia e nella cultura di questo paese perché è sicuramente qualcosa che su cui l'Italia non ha fatto i conti ma nello stesso tempo io che ne so posso riferirmi alla storia che c'è stata insegnata specialmente a quelle della mia generazione quindi le cose possono essere anche sicuramente migliorate e cambiate rispetto non so la prima guerra mondiale alla presentazione degli austriaci come i cattivi gli austro-ungarici come i cattivi gli italiani come i buoni gli eroi che hanno combattuto contro per liberare trento e trieste queste cose qui cioè è una è una questione che è molto ampliabile cioè non è soltanto il fascismo non è soltanto il colonialismo il problema noi abbiamo vie intitolate ai dinzeo che sono stati famosi repressori degli anni 70 dei moti popolari contro appunto cioè ci sono tantissime questioni penso per esempio che prima ti parlava di azioni fatte nei confronti delle di statue io ho presente per esempio la storia di quello che è successo per montanelli a milano per l'azione anche fatta da femministe e nel volere appunto segnalare la violenza di certe di certe situazioni fondamentalmente ecco più che la mia domanda è quanto dobbiamo avere attenzione secondo anche le persone che oggi sono intervenute ma sicuramente ci sarà occasione anche nelle nei prossimi quattro incontri di che questo tipo di intervento non sia una cancellazione di memoria quanto piuttosto invece un uno sforzo da parte di tutti di studiare e di capire il più possibile quelle che sono le situazioni a me appunto questa cosa mia mi ha stimolato più che mai per quanto riguarda anche e quello che io ho vissuto da giovane per quanto riguarda la di come sono sono state presentate il primo conflitto mondiale appunto contro nella prima guerra mondiale e che ho potuto cambiare fondamentalmente nel momento in cui insieme a dei colleghi austriaci siamo andati a parlare in musei che parlavano appunto dei sagrari della prima guerra mondiale con altri colleghi che venivano da tutto il mondo scienziati e quindi il fatto che la visione italiana la visione austriaca venisse presentata collettivamente è servita a come dire a rileggere anche come queste cose venivano presentate a livello museale io mi chiedo appunto se non sia importante più che fare rimozioni o cancellazioni o come dire atti di abbattimento di statue o di altre cose quello invece di fare un lavoro culturale di conoscenza di quelli che sono gli avvenimenti grazie grazie agostino e io dividerei magari le risposte se volete perché probabilmente diciamo il tema di montanelli è anche legato al discorso di giaba che peraltro ha preso voce proprio su quella storia e magari appunto sulla calcio magari chiediamo ad Alessandra di rispondere cominciamo da dai giaba che che ne pensi insomma allora per quanto riguarda per quanto riguarda la conoscenza e non pensare alla distruzione ma la costruzione che era un po' il nocciolo diciamo della domanda una cosa che mi sono dimenticata di dirvi prima ma che è importante che a Roma sta per nascere poi c'è molta discussione su questo però sta per nascere un museo in realtà si chiamerà museo italo-africano Ilaria Alpi e nascerà l'Eur esattamente nelle sale del Pigorini e in alcune aree sale del Pigorini io ho avuto la fortuna di conoscere le curatrici di andare a vedere diciamo quello che c'era nei magazzini di questo museo perché poi lì si sono concentrati tanti lasciti da varie parti di Roma e devo dire che ho visto di tutto da per me che sono di origine somala insomma mi porto appresso proprio le due storie no sono nata in Italia appunto per origine somala quindi il colonialismo è anche un fattore di famiglia no perché comunque io ho avuto mio nonno che è stato interprete di Rodolfo Graziani ogni tanto ci penso che Rodolfo Graziani dava le caramelle a mio padre quindi mi sono interessata di questo anche per una situazione familiare per capire come la colonia è la spazio dell'ambiguità per eccellenza non possono non ci sono buoni cattivi e c'è sempre quel passaggio no di cui tu io penso al nonno che collaborava con con i fascisti attivamente no e poi però questo non gli ha impedito scena dopo di partecipare all'indipendenza somala quindi la storia è sempre molto complicata e quando appunto sono andata a vedere i manufatti le cose che sono state portate dagli italiani dalle colonie hanno portato di tutto da i totem di tribù eritre a stante tanti paramenti sacri paramenti sacri e addirittura i fagioli e pelli di leopardo pelli di leopardo ma accatastate e poi anche c'era una pelliccia fatta di pelle di leopardo c'era di tutto di più e sarà molto interessante vedere come le curatrici che si stanno facendo molte domande cercheranno di costruire in un momento in cui c'è un grosso dibattito antimuseale no non so se avete visto il film black panther che a un certo punto c'è una scena dove lui spacca il vetro e si riprende il manufatto se lo riporta in africa no in qualche modo perché comunque molto di quello che c'è nei musei europei non solo sono cose prese da altre parti intimamente legate alle storie alla storia coloniale europea allora come fai in un momento in cui si discute molto di questo costruire un museo è utile non è utile importante non è importante come puoi farlo in modo decoloniale se trovo dopo mi mando un bella un bella intervista ve lo metto sulla chat su di viviana gravano e giulia grechi alle curatrici perché le curatrici hanno veramente buonissime intenzioni secondo me e secondo me se l'operazione veramente prendere a corpo invece potrebbe essere molto interessante potrebbe essere un luogo di aggregazione di pensiero di di artisti perché io poi sono capitata lì perché sono andata a vedere un lavoro un lavoro teatrale potrebbe essere molto importante per la città di roma che fino adesso non aveva un luogo fisico in cui queste cose potevano essere pensate io non so come andrà a finire ci sono stati anche molti articoli su questo museo da parte mi pare del financial times perché chiaramente il mondo si interroga ma come mai tutti noi vogliamo restituire le cose voi aprite il museo però effettivamente una cosa di cui mi sono resa conto è che molte cose non possono nemmeno essere restituite cioè io per esempio in somalia ci sono stati 30 anni di guerra civile e disastro emane tutto tutto quello che c'è la storia del paese gli archivi sono andati tutti distrutti paradossalmente avere un luogo qui e che conserva dei manufatti potrà permettere un giorno una non solo la restituzione no la restituzione del manufatto ma anche di ricostruire una storia no non pensiamo mai che a volte c'è c'è anche questo bisogno no ricostruire una storia che lì non ha più archivi ma qui sì cioè e quindi veramente si possono fare molte cose dal punto di vista della ricostruzione poi vi dico una cosa su montanelli ma io perché la penso da tanto tempo allora è stato importante in realtà l'azione femminista su di non una di meno sulla statua di montanelli a parte che la vernice era lavabile era rosa lavabile eccetera però era un quasi no ok parliamo anche di questo no è più che la distruzione in seno cioè secondo me era un attirare l'attenzione su una storia che poi tra parentesi io non so nemmeno se è vera perché noi abbiamo solo la parola io me lo sono chiesto tante volte no perché lui ha parlato di della sposa bambina che aveva poi sposa una era con un combinaggio forzato no di una ragazza di 12 14 anni e però appunto sarà vero sarà una costruzione mentale di montanelli avrà avuto delle prostitute avrà avuto dei rapporti gay noi non sappiamo assolutamente niente della vera storia però la cosa interessante secondo me e su cui non ha quasi nessuno ha ragionato è che quella non è una statua del periodo fascista è stata fatta adesso allora uno si deve chiedere come come mai facciamo statue così senza che nessuno lo sappia no senza una discussione pubblica cioè secondo me quello è il problema della statua di montanelli è uscita fuori non si sa bene quando perché se si sa per quando perché però perché non c'è stata una discussione pubblica della città perché secondo me è importante che ogni cosa che viene costruita nella città sia comunque io non sapevo quando le hanno buttato la vernice rosa sulla statua io non sapevo che montanelli avesse una statua a milano non ne avevo la minima idea quindi a volte è anche è anche sarebbe utile sapere perché ci sono le cose come mai le abbiamo costruite sicuramente diciamo del dei due inter perché le vernici sono state due la prima volta rossa che donava di più in effetti spiccava meglio sul bronze o della e poi rossa che forse ma poi nonostante la mia fede calcistica devo dire che non funzionava molto bene a questo punto e hanno fatto una statua vicina di sankara che poi era una statua performance no e lì ho pensato perché sankara sankara io li voglio un sacco bene grande presidente del burkina faso ucciso in situazione orrenda lo sappiamo però che c'entra sankara con la storia ci stiamo parlando di storia coloniale e quindi anche nella militanza a volte penso che si dovrebbe e si dovrebbe trovare anche un significato un po più aderente a quello che stavi raccontando prima e così qualcuno aveva anche proposto di mettere una statua di dinka che doveva essere poi appunto il nome di questa appunto madama come si chiamava all'epoca per l'appunto bambina ovviamente forzata semmai è anche appunto semmai esistita perché qualcuno ha anche ricordato che i reportaggi racconti montanelli sono stati spesso lagunosi spesso anche contraddetti dalla realtà dei fatti quindi eh chissà effettivamente quanto c'è di vero e quanto no Alessandro allora completiamo perché la domanda di Agostino era veramente molto eh ampia eh con un ragionamento se vuoi su quella sulla cosiddetta cancel culture che è stato un grande eh dibattito di questi eh di questi mesi perché appunto eh qualcuno ha accusato poi i movimenti che cercano anche attraverso azioni inclatanti comunque rivolte verso Stato e non verso persone sono gesti di violenza ma di violenza simbolica in questo senso eh per attirare l'attenzione appunto di voler cancellare la storia ora eh che tipo di atteggiamento possiamo avere a me viene in mente te lo metto lì anche proprio come spunto di di ragionamento il quello che è stato fatto a Bolzano con la casa del fascio ad esempio no che è un un edificio completamente fascista eh con la scritta credere obbedire combattere sul quale è stato eh giusto apposto una scritta luminosa con una frase di Anna Arendt che contraddice quella stessa scritta quindi come dire ecco questo è un esempio di resemantizzazione che non ha abbattuto assolutamente eh il monumento ma ha creato un dibattito sicuramente tu che cosa ne pensi? Io sono sono d'accordo tra l'altro è anche invece un modo per riprendere appunto la prima parte della domanda di Agostino se non sbaglio cioè possiamo darci tutti del tu è e e cioè appunto il problema mi sembra un po' mh quello che tra l'altro è emerso anche in questa chiacchierata di questa sera e forse un passo avanti come dire lo abbiamo fatto cioè da un lato noi non solo non possiamo ma non dobbiamo rimuovere il passato perché banalmente rimuovere il passato vuol dire rimuovere una parte di noi vuol dire rappresentarci come noi non siamo mai stati vuol dire rappresentarci appunto quegli italiani brava gente che non sono stati colonialisti non sono stati antisemiti non sono stati non sono stati una serie di cose e questo non è pensabile diciamo così nel bene e nel male capire questo cioè capire capire anche che perché gli italiani sono stati fascisti perché sennò sembra sempre un modo per allontanare qualche cosa da noi cioè riguarda gli altri no non riguarda gli altri riguarda noi e quindi mi sembra molto mi sembra una quella che raccontavi eh cioè l'ipotesi appunto di indicare accanto ad un monumento chiaramente celebrativo di una fase di un periodo di un regime dal quale vogliamo prendere le distanze mi sembrerebbe opportuno indicare con una scritta con una luce con tutta la fantasia possibile che sicuramente io non ho è indicare una presa di distanza cioè indicare che noi rispetto a certe cose appunto siamo distanti sulla però una cosa importante sulla questo cultura del cancellare no questo fa un po' impressione perché appunto il problema non è cancellare è accettare e rielaborare per elaborare elaborare noi possiamo prendere distanza da qualcosa che conosciamo se no da che cosa ci distanziamo il conoscere ci serve ad essere più lucidi più consapevoli e quindi anche più diciamo così diciamo forse ad elaborare da questo punto di vista lo dico un antifascismo un po' più consapevole e meno retorico perché a ragione Agostino dice abbiamo imparato una storia fatta in un modo no l'abbiamo imparato una storia fatta in un modo e questo poi ci aiuta ad essere realmente più democratici non è detto cioè forse per acquisire una coscienza democratica dobbiamo riflettere su quello che è accaduto su quello che c'è stato dopodiché per esempio no una piccola cosa che non c'entra nulla non voglio levare spazio alle domande quindi voglio essere cioè così breve è proprio vero la statua di Montanelli è di qualche anno fa allora ma perché dobbiamo dedicare una statua Indro Montanelli ma perché cioè è un giornalista ho capito ma dei giornalisti bravi in Italia ce ne sono stati tanti adesso effettivamente è un luogo pubblico non è che ha scoperto appunto il vaccino di questi tempi non ha scoperto chissà che forse era meglio che va beh no dico perché dobbiamo fare una statua Indro Montanelli io io me lo sono chiesto poi sono contenta che la vernice era lavabile non lo sapevo confesso ecco lì forse se fosse stata non lavabile non mi sarebbe molto piaciuto l'idea no del distruggere qualche cosa che non mi quello mi crea un po' di disagio però appunto eh io direi tutto tranne che rimuovere elaborare perché se noi rimuoviamo non elaboriamo allora guardiamo in faccia anche i lati più oscuri del nostro passato comunque rosa donava diciamo eh questo posso dirlo potremmo anche ecco immaginare cosa fare dell'obelisco che lo sa magari dipingerlo di rosa immaginate 16 metri di obelisco scritto dux in versione per esempio lì lì hai ragione una scritta un'immagine una luce una luce magari una luce perché l'idea di Bolzano effettivamente interessante perché non tocca l'integrità del monumento ma sovrascrive quello è sicuramente una modalità che adesso in questo senso scusa se ti ho interrore appunto non tocca l'integrità del monumento perché comunque quello fa parte a tutt'oggi del patrimonio per appunto storico artistico tutelato dalla Costituzione fa parte di un complesso che è una grande opera architettonica dopodiché c'è scritto Mussolini per 19 metri quanti sono non mi ricordo mai allora lì forse sì che una distanza ci va perché dobbiamo vabbè l'ho già detto andiamo avanti allora Roberto Ormanni era poi iscritto a appunto a parlare a fare domanda buonasera a tutti e grazie a tutti e grazie soprattutto alle relatrici in realtà in parte la mia domanda che era sorta dopo il primo intervento di ijaba è stata in parte diciamo già risposta anche se mi piacerebbe in realtà rilanciare perché la mia domanda appunto volevo rivolgerla direttamente ai jaba perché appunto andando a rileggere il il testo Napoli negata in questi Roma negata Napoli negata scusate l'apsus ma che è spiegabile subito perché perché il mio sguardo in realtà è bicefalo e bifronte perché sono originario di Napoli appunto adesso mi trovo a Roma e in realtà appunto nel testo Roma negata di ijaba c'era un punto molto interessante che vorrei chiedere proprio direttamente aijaba se era tornata sulla ricerca cioè nel senso si chiedeva nelle pagine se il museo africano fosse stato casualmente messo a via dovrandi vicino alla stazione zoologica fondamentalmente questo mi rimanda direttamente in realtà alla conformazione urbanistica a Napoli perché qui a Napoli abbiamo la la mostra delle mostra d'oltremare oggi che per me appunto è vergognosamente ancora oggi denominata mostra d'oltremare perché appunto è una dicitura nata nel 40 che si chiamava mostra delle terre italiane d'oltremare oggi in realtà senza nessun tipo di di critica e problematizzazione è stata detenuta la la dicitura negli anni 90 con questa società per azioni che ha preso in carico la la lo spazio e questo spazio è nato nel 40 insieme allo zoo di Napoli quindi mi chiedevo ijaba direttamente questa cosa e volevo rilanciare in realtà anche proprio appunto sul sull'operazione museale perché appunto da questo volevo ricollegarmi però appunto a questo poi giaba già era arrivata col museo italo africano e capire effettivamente magari anche dalla professoressa Tarquini insomma capire effettivamente quali sono forse le modalità più giuste per affrontare una un'operazione museale per non trasformarci nuovo alla all'esposizione come quella al vittoriano totalmente insomma un po' problematizzata ma appunto in qualche modo come integrare anche dentro all'operazione anche una narrazione autonarrazione delle dell'alterità insomma non trasformarla in una in una in un'operazione così discutibile grazie mi taccio allora grazie della domanda e io comunque vi ho messo nel link vi ho messo nella chat il link su dell'intervista di viviana gravano e giulia grechi su appunto mostrare una collezione coloniale riflessioni sul futuro che è veramente un articolo molto interessante parlano anche con le curatrici insomma è tutto da vedere come sarà questo museo cioè io non lo so perché non sono io la curatrice però penso che come vi ho detto prima hanno si sono stanno si stanno ponendo le domande giuste quindi poi chiaramente tutti noi vedremo come come si svilupperà credo che anche ci siano dei rallentamenti causati dalla situazione covid 19 in cui siamo messi un po tutti pandemica diciamo per quanto riguarda il zoo e il museo coloniale io non ho certezze però una cosa ve la posso dire che effettivamente una delle prime cose che è che è successo dovremmo un po indagare su come si è formato anche il razzismo popolare no perché poi il colonialismo all'inizio soprattutto all'inizio era una faccenda propriamente dell'elite quando l'italia si compra la baia di assab prima la fa comprare a rubettino poi dopo dopo arriva no insomma rubettino viene giustamente messo da parte e l'italia dice no sono io il vero acquirente no e si prende la baia di assab che poi è il primo nucleo della del diciamo del colonialismo del colonialismo italiano questa questa baia di assab è legata a una visita però non nella nostra città però è molto interessante quello che è successo avvenuta mi pare nel 1884 non sono proprio sicurissimo della data all'esposizione all'esposizione di torino all'esposizione di torino e insieme a tantissime cose c'erano mongolfiera c'erano i funamboli no avete presente queste queste esposizioni ottocentesche andavano molto di moda far vedere i i prodotti ma anche e gli abitanti delle colonie lo facevano i francesi gli inglesi insomma eh c'erano addirittura dei gruppi molto famosi no le le guerriere del daomei che poi non erano magari non erano tutte dal di là e venivano insomma in quasi c'era quasi un provino no venivano tutte imbarcate e venivano mostrate in questi in questi domani dove facevano acrobazie eccetera in italia sono arrivati questi assabesi e da appunto dalla baia di assab e loro è una cosa che vi consiglio di andare a ricercare perché è abbastanza abbastanza interessante perché poi loro hanno molto negoziato con i torinesi dicendo no ma noi non vogliamo dormire qui li vogliono far dormire al parco del valentino poi alla fine hanno accettato però ci dovete far mangiare meglio insomma hanno hanno negoziato molto il loro la loro permanenza in italia eh lei ha voluto appunto dei vestiti più caldi insomma eh però eh sono stati comunque mostrati come fenomeni da baraccone e e effettivamente io ho da lì ho un po' cominciato a riflettere su quanto il razzismo eh o comunque mh questa questa spinta coloniale che è sempre anche molto razzista perché tu lo fai per il prestigio lo fai per le per per accapararti delle risorse per inferiorizzare l'altro e si è diventato attraverso questa ehm questa propria esposizione dei corpi si è diventato popolare perché quando tu cominci a vedere una persona al di là del ricinto cioè eh come vediamo oggi nelle persone al di là di un muro no quando vedi qualcuno al di là del ricinto tu hai il potere l'altro è inferiorizzato e razzializzato è chiaro che lì comincia a nascere un pensiero ok ma non siamo tutti uguali io sono meglio quindi a me è sempre un po' colpito questa vicinanza prossima tra appunto musei coloniali e zoo però non ho non ho non ho delle prove ecco su questo non ho delle prove e sarebbe interessante fare degli studi capire capire anche se io questo nemmeno lo so se a Roma e sicuramente a Roma sono passati no eh molti abitanti dell'Africa orientale a parte gli ascari e e non so c'erano molti ascari no a Palazzo del Curinale eccetera eccetera però capire e e proprio l'esperienza di di quel periodo ci sono delle tracce no però non è che sappiamo moltissimo ecco non non sono stata esauriente forse a rispondere alla tua domanda più dubbi che che certezze però i dubbi sono sempre utili perché mettendoli insieme magari possiamo arrivare insieme a a delle certezze. Grazie Giaba io faccio una piccola mozione d'ordine perché noi ci siamo dati due ore di tempo normalmente tra le sei e le otto ora in realtà in questa prima primo incontro io ho ritagliato un quarto d'ora quindi se avete tempo possiamo sbordare fino alle otto e un quarto eh però ecco farei così procedere così perché ci sono diverse domande magari vi alterno le risposte quindi diciamo tu adesso hai risposta a Roberto ora chiediamo a magari ad Alessandra di rispondere a Maria Antonella Fusco che pure voleva fare un intervento che è il terzo nome che abbiamo prenotato sì buonasera salve salve diciamo che in realtà io volevo mi sentite sì sì in realtà io volevo rispondere a Giaba quando diceva che ce ne facciamo del qualcuno di piazza quello lo può fare senza problemi nel suo nel suo delizioso libro che conservo sul mio tavolino è un quesito che lei pone no dice quanto sarebbe bello far affacciare gli altri i i soppressi eh io sono una museologa eh sono una funzionaria del ministero dei beni culturali e eh ho lavorato molto a lungo a Castello Sant'Angelo ma sono per mia formazione una contemporaneista quindi sono stata felicissima di ascoltarvi entrambe e ho ascoltato con molto piacere anche l'intervento di le tanti sono per mia natura contro qualsiasi forma di cancellazione la cancellazione non serve a nulla e a nessuno la storia è la storia eh i latini parlavano di amnazio memorie volevo ricordare che a Castello Sant'Angelo conserviamo la testa del tutto sfigurata del monumento a Paolo IV Carafa il papa per intenderci dell'inquisizione il papa del concilio di Trento che ha di fatto messo in piedi lui quando era cardinale e ha poi patrocinato come pontefice soprattutto il papa del ghetto soprattutto il papa che ha cancellato i diritti degli ebrei romani che sono cittadini oggi come allora a pieno titolo come tutti quanti gli altri è morto ad agosto del cinquantanove del millia cinquecentocinquantanove possiamo pensare che facesse molto caldo ma questo non ha impedito ai cittadini romani e penso anche ebrei soprattutto ebrei romani di decapitare la scultura del pontefice che come tutte le altre erano in quelli che oggi sono i musei capitolini e allora erano il palazzo dei conservatori questa testa è stata rotolata nel tevere con assoluta violenza pur parlando di una statua è totalmente sfigurata è stata ripescata poi quando la ribaldi ha fatto gli argiti sul lungo tevere ed è a Castel Sant'Angelo eh io l'ho scupazzata un po' in giro per il mondo l'ho portata a Vienna qualche anno fa è assolutamente illegibile è come Pasquino e come tutte le nostre statue parlanti non serve a niente è servito ma significa che noi ancora dobbiamo guardare ai monumenti come simulacri e eh offendendo e cancellando il simulacro pensiamo di ricompensare in qualche modo la cittadinanza dei torti e delle violenze subite io penso che ci possiamo portare un passo avanti e soprattutto quello che ci raccontava adesso Graziani sulla multimedialità adottata a Bolzano ci dà mille strumenti di lettura dei luoghi assolutamente non invasiva dopodiché tante sculture si possono ricoperare in un museo non è detto che lo spazio pubblico debba essere occupato da cose e peraltro il monumento a Montanelli è veramente brutto cioè è anche offensivo per Montanelli in qualche modo non che la cosa ci interessi ma è veramente pessimo allora eh secondo me tutto va riletto in termini di storia pubblica eh la public history oggi è una grande realtà ci sono le comunità ci sono le comunità di cittadini eh c'è la convenzione di farro che finalmente è stata ratificata e che va attivata e per attivarla ci vogliono proposte delle comunità e io sono molto felice nonostante la mia età di prendere parte a questi laboratori perché trovo che siano un luogo di riflessione come già la serata di oggi sta dimostrando un luogo di confronto e poi se può venire fuori qualche proposta sicuramente dal mio punto di vista non può essere all'insegna della cancellazione il balconcino di piazza Venezia per chiudere sulla domanda di Jabba è è un balconcino è un balconcino quattrocentesco che per circa vent'anni forse nemmeno vent'anni è stata la facciata di uno studio dove come sappiamo la luce era sempre accesa anche perché la pagavano gli italiani quindi tutto sommato non c'era motivo di spegnerla ma è parte di un grande scenario che ha il vittoriano come sfondo e mentre eh per i fori imperiali è stato Mussolini ad abbattere per il vittoriano eh sono stati quelli che a Napoli della mia città chiamiamo i piemontesi cioè lo sventramento della Roma medievale è cominciata negli anni settanta alla fine degli anni settanta con la morte di Vittorio Emanuele II per costruire questo grande monumento che significa che le cancellazioni ci sono sempre state quelle fasciste sono state particolarmente violente perché connesse a un regime violento ma non è che la cancellazione della parte del eh del Campidoglio fatta dal diciamo dai Savoia è stato meno violenta o meno arrogante sono venuti giù tantissimi palazzi di grande regione a noi tocca veramente un po' leggere e risarcire delle cicatrici denunciando che sono cicatrici che sono delle violenze della storia e portare però avanti la storia con delle proposte e io penso che questo laboratorio ce la può fare grazie grazie una cosa sul vittoriano al volo volissimo proprio io sono concordo con tutto quello che ha detto e e poi interessante il vittoriano noi non ci pensiamo mai però è stato praticamente inaugurato nel 1911 e quindi è il momento in cui l'Italia entra nella famosa guerra italo turca no e che secondo me è stato una sorta di in tutto quello che poi abbiamo visto col fascismo la propaganda la colonizzazione ed elementi dell'italiana oltre che delle colonie e l'abbiamo visto nel 1911 secondo me è una data chiave no e quel monumento in un certo senso è chiave cinquant'anni dopo l'unità d'italia una si si ricomincia a colonizzare perché si era smesso nell'ottocento dopo a due e si ricomincia a colonizzare quindi è molto molto interessante poi si sul balcone magari la mia proposta è apriamolo prima o poi dobbiamo aprirlo sembra aprire diciamo è sempre una proposta interessante perché poi dà spazio a più soggettività e quindi non è una forma ferma insomma museale per l'appunto bisogna dire che quando parliamo di musei il peccato come dire originale del del fatto che la musealizzazione nasce all'interno da una visione europea che è eurocentrica che è necessariamente vista come appunto il centro del mondo che esplora esplora il mondo arretrato selvaggio esotico e lo riporta per poterlo far vedere la propria popolazione diciamo questo è un po un peccato originale eh attorno al quale gli stessi musei che li anima si interrogano allora eh io andrei avanti anche perché appunto l'intervento di Maria Antonella Fusco era più un intervento che una domanda Maria Antonuzzi Antonuzzi scusate Marianna Antonuzzi ha dovuto lasciare la diciamo lo zoom però ha lasciato una domanda che io vi giro e ve la leggo una domanda a metà tra la domanda e osservazione non me ne intendo eh scrive ma si può considerare prova della violenza subita da Roma il fatto stesso che Mussolini non abbia modificato la città arricchendola ma plasmando quartiere ed edifici a suo piacimento quindi come dire un utilizzo strumentale ci ha privato come ha detto Alessandra Tarquini di uno scorcio di Roma medievale la stratificazione va dalla Roma dei latini a quella di oggi tranne per quegli strati che Mussolini fascisti hanno sfilato dalla piramide su cui camminiamo ogni giorno e quindi diciamo appunto sull'utilizzo strumentale della della Roma Mussoliniana questa è un po' la domanda a quale magari può fare un commento Alessandra mentre scusa no no c'è una coda diciamo per i Giabba per rispondere alla domanda di Giabba non si potrebbe cercare di riesumare quei quartieri strappati via da Roma eh questa è la domanda invece per i Giabba allora cominciamo da Alessandra no io eh direi che in realtà diciamo eh è un sì e un no da un lato è vero quello che è stato anche sottolineato adesso cioè il fatto che gli interventi eh tutte le classi politiche intervengono sull'urbanistica e su ciò che trovano quindi come dire la strumentalizzazione del passato la trasformazione del passato a proprio uso e consumo non solo non la inventano i fascisti ma fa parte della del rapporto che le classi dirigenti hanno con un determinato territorio qui stavamo parlando di una cosa specifica e che è appunto quello sventramento a quali finalità eh deriva allora il monumento a Vittorio Emanuele II che nasce appunto nel viene inaugurato diciamo nel millenovecento undici viene inaugurato per festeggiare i cinquant'anni cioè il primo giubileo della patria milottocentosessantuno millenovecento undici ed è una storia significativa ma adesso vado vado perché non così lasciamo spazio alle domande è una storia significativa perché ci racconta come i liberali immaginavano di essere gli eredi del risorgimento i fascisti fanno un'operazione molto diversa allora molto più da questo punto di vista violenta rispetto al passato quindi qui non è tanto secondo me un misurare il quartiere tolto il quartiere non tolto cioè è capire la natura dei dei progetti e delle politiche messe messe in atto allora cercavamo un po' di capire qual era la specificità fascista eh non so se ho risposto però appunto se ci sono anche altre domande eh ah no scusami no c'era Igiabba che le prendiamo c'era appunto questa domanda sui quartieri strappati via da Roma Igiabba non ti sentiamo eh raccogliere le domande magari facciamo sì allora la la domanda appunto di Marianna era sui quartieri appunto strappati da Roma che potrebbero essere riesumati o comunque eh appunto riportati a una leggibilità eh poi c'era un intervento di Matteo Polimanti e uno di Tiziana Mezzetti allora a questo punto li prendiamo entrambi così poi vi lasciamo la parola in conclusione allora Matteo anche scusa anche Rollo Stefano si era ah sì anche Stefano Rollo sì allora Matteo sì grazie mille intanto buonasera e grazie mille a entrambe per per l'incontro eh in realtà la mia la mia domanda riflessione non non riguarda il come dire la 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 tematica specifica del del primo incontro di oggi però si pone nella nella riflessione che all'interno della riflessione che oggi abbiamo cominciato eh io 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 mi chiedo ehm noi siamo qui a riflettere appunto se sia ehm legittimo o meno conservare o eh cancellare un segno della città che può essere una piazza una via un 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 monumento e e così via e lo stiamo facendo perché abbiamo insieme cominciato un 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 processo di conoscenza di approfondimento ecco allora mh mi interessava sapere insomma eh quale fosse il vostro parere riguardo mh la la non conoscenza che magari la maggior parte eh la la maggioranza di una comunità può avere riguardo una via un monumento eh nel senso che eh anche io prima dell'incontro di oggi eh eh avrei ignorato la come dire la la eh l'accezione positiva o negativa attraverso la quale possiamo considerare appunto un segno della della città mi chiedevo eh è così ovvero mh una via o una piazza possono essere un brutto o un bel segno della città solo nel momento in cui si 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 fa un percorso di approfondimento e conoscenza oppure anche rimanendo mh sul livello superficiale al passante che capita passeggiando in in piazza dei cinquecento può 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 esserci non non so una una certa eh nocività pur pur non conoscendo la storia che c'è dietro dietro quel segno se la risposta a a questo quesito è è no ehm allora mi mi domando perché ehm oggi non per perché fino adesso non si è mai coinvolta ampiamente la comunità nella nell'istituzione di monumenti piazze vie eh e nuove insomma che che senso ha che questi che questi segni vengano eh stabiliti istituiti se poi non 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 si stabilisce un contatto vero appunto fra eh fra questi e e la comunità che poi li abita. Grazie mille. Allora prendiamo la domanda di Tiziana Mezzetti è andata via? Scusatemi eccomi ehm sì la mia in realtà era una riflessione più che una domanda eh una domanda riflessione diciamo e mi scuso perché sono arrivata tardi e quindi mi sono persa una prima parte eh degli interventi eh ma mi hanno colpito molto le le parole i termini cancellazione rimozione e mh sono andata un po' all'immagine probabilmente sarò fuori tema a del muro di Berlino che rappresenta allo stesso tempo una ferita eh di quella città in in cui c'è stato comunque un intervento eh di di una pluralità di artisti e quindi ho pensato che quella mh quel passato non è stato cancellato ma è stato comunque trasformato attraverso appunto degli interventi artistici e quindi eh mi chiedevo appunto se eh sicuramente poi perché ci sia questo processo di questo processo di trasformazione è necessario alla conoscenza di cui insomma si è anche parlato io in primis non pur essendo nata a Roma devo ammettere che conosco poco la mia città e e quindi appunto la mia la mia riflessione domanda era ehm si può attuare questo a livello collettivo cioè effettivamente dalla conoscenza partire dalla conoscenza per arrivare non alla cancellazione del proprio passato perché poi rappresenta anche le proprie radici no chi siamo ma un processo anche trasformativo di riscrivere in un certo senso sì di trasformarlo grazie grazie comunque a tutte e a tutti grazie Tiziana allora Stefano Rollo poi le domande diciamo di Matteo Tiziana più o meno su sul coinvolgimento delle comunità eh sono un po' risuonano l'una con l'altra Stefano sì ciao buonasera a tutti eh anch'io forse ripeterò alcune cose che nel frattempo sono state già dette insomma cerco anche di essere rapido vista l'ora eh sì anche il mio è un po' un intervento a metà tra riflessione e domanda eh sicuramente abbiamo citato tra le cose che forse hanno dato le mosse a questo laboratorio quello che è successo quest'anno con Black Lives Matter e le riflessioni sulla cancel culture anche se poi è stato detto che una serie di riflessioni di questo tipo di studi eh vengono fatti su Roma a me interessava così segnalare una mia suggestione eh che è quella che in questi ultimi anni è nato veramente un grande interesse degli stessi romani verso la storia di Roma le sue stratificazioni però quelle più moderne quelle più recenti parlare di Roma moderna fino a poco tempo fa era una cosa per urbanistiche o archeologi o storici o appassionati invece ultimamente mi sembra che ci sia un grande dibattito anche online anche molto spontaneo con pagine social c'è un fenomeno editoriale anche abbastanza evidente ed è o ed è insomma anche interessante forse fare una meta riflessione su su questo tipo di di interesse dei romani per questa città che dicono loro stessi di scoprire di non conoscere e e che forse è pure il frutto di una cancel culture che è stata effettivamente citata che è quella della cancellazione dei quartieri medievali e e quindi eh anche qui c'è un elemento di cancellazione della nostra stessa cultura con cui stiamo in non so perché facendo collettivamente i conti adesso e forse anche perché Roma è una città in crisi ha smesso di essere spinta da non so fenomeni etorodiretti la capitale il fascismo il boom e improvvisamente si ferma e si deve non so studiare ci sono tanti fenomeni penso anche l'ecomuseo casilino gli ecomusei che sono nati in questi anni realizzati dal basso cioè dai cittadini che valorizzano le storie della loro stessa periferia e forse di questa cancel culture c'era la cosa che a me interessa di più e volevo chiedere è quella relativa alla gente che è stata deportata da questi quartieri perché noi parliamo di quartieri che sono spariti eh per mano dei piemontesi e poi dei fascisti però poi ci sono famiglie che sono state spostate anche divise eh da questo piccone demolitore eh risanatore no io ho parlato con gente che mi raccontava che i loro zii eh andavano a fare a festeggiare delle feste a Trastevere dai parenti venendo da Pietrala da Cile adesso non ricordo cioè famiglie divise questa memoria collettiva che fine ha fatto sicuramente ci sono gli studi c'è Ferrarotti però non so quanto la conosciamo io so che da ragazzino da romano di prima generazione quelli delle borgate li chiamavamo borgatari prendendoli in giro però poi in realtà forse tra loro si celavano i veri romani anche questo insomma secondo me è un è un tema che non ha molto a che vedere col colonialismo però a che vedere con questa storia e poi niente no per concludere eh anche rispetto a quello che è stato detto invece più sul colonialismo e sui musei sicuramente è molto interessante questa riflessione a me è capitato di studiarla insomma sul cosiddetto museo relazionale cioè su questo lavoro con le comunità stesse è stato anche citato all'inizio sulla prima guerra mondiale quindi la storia tra creazione di storie condivise insomma tra comunità che erano divise che ricostruiscono insieme una narrazione possibile da diversi punti di vista come si fa appunto in molti musei civici o etnografici che appunto toccano queste materie nella postcoloniale e niente per concludere insomma sicuramente più che risemantizzare o rimuovere forse anche cosemantizzare cioè affiancare con questi gesti che possono essere anche beffardi e sarcastici però più letture contemporaneamente non e non una sola poi i linguaggi si possono trovare dalla street art urbanistica tattica sono il mapping il video mapping eccetera tutto qui tutto insieme grazie grazie stefano c'è un'ultima domanda che è quella di marta marinelli e poi andiamo alle risposte sto anche prendendo cerchiamo di isolare appunto alcune tematiche che ricorrono tra i vari interventi allora marta buonasera a tutti e tutte volevo sarò brevissima per non dilungarmi volevo chiedere partivo dalla riflessione rispetto al fatto che uno dei problemi che riscontro rispetto a questi temi sono i parallelismi cioè quando vengono comunicati questi temi i parallelismi che spesso vengono utilizzati sono sempre la censura la censura cattolica cristiana la censura fascista quindi rispetto agli interventi di di cancer culture di di popoli di di gruppi che intervengono su stato e monumenti e proprio oggi rileggevo appunto il dossier che che linkavate prima dove dove c'era la l'intervista linkata prima e mi sono imbattuta in questo intervento molto interessante in cui si decostruivano una serie di ehm parole eh legate eh alla alla cancel culture ehm uno di in uno di questi di questi interventi si eh citava per esempio eh questo intervento di di Giorgia Meloni in cui eh appunto eh diceva eh rispetto a alle azioni contro le statue dedicate al colonialismo eh al colonialismo eh lei eh a luglio dell'anno scorso diceva ehm che questi movimenti hanno un'avanguardia e quell'avanguardia erano i talebani i talebani che cannoneggiavano l'estato buddista in Afghanistan facevano esattamente la stessa cosa l'esis a Palmira ha fatto esattamente la stessa cosa ora mh in termini critici come cioè voi eh mi rivolgo alla professoressa Tarquini ehm in termini critici come eh cosa suggerireste di domandarsi eh quando ci si trova davanti a parallelismi del genere per distinguere ehm criticamente eh un un affiantamento simile cioè di eh un gruppo di di un di non una di meno che attacca la statua di Montanelli eh rispetto a una una censura di di del tipo appunto di questo che portava in esempio la Meloni. Ok grazie a Marta allora io direi quindi i temi sono vari quelli che mi sembra di poter sintetizzare visto che tra dieci minuti andiamo a chiudere sono la partecipazione a livello collettivo nella riscrittura nella decisione anche a chi intitolare stato e piazze o eh se c'è il caso appunto di eh doverle risemantizzare eh togliere rintitolare poi c'è il tema della cancel culture che mi sembra molto caldo diciamo in questa discussione e e il tema delle borgate sulle quale volendo posso aggiungere qualcosa anche io allora eh Giava vogliamo cominciare da te da quale di questi temi vuoi partire? una risposta molto breve su un po' tutto speriamo allora io vi volevo dire una cosa dobbiamo stare attenta a questo frame cancel culture perché in un certo senso viene usato molto male e molto spesso come appunto nell'esempio appunto dell'onerevole Meloni insomma mettere due cose che non c'entrano niente insieme io ho notato che si urla spesso alla cultura della cancellazione anche quando si devono mettere dei semplici disclaimer davanti ai film che hanno un portatore razzista quindi magari a fare un disclaimer non vuol dire cancellare il film vuol dire avvertire che che comunque quel film ha delle problematicità no? Quindi stiamo molto attenti quando questo poi questo dibattito sta prendendo fuoco e ci viene dagli Stati Uniti no? E dove c'è una grossa divisione adesso e soprattutto dove per la prima volta dopo tanti anni dal momento dei diritti civili finalmente la popolazione latina, nera, afro, gli afroamericani soprattutto stanno prendendo la parola e stanno mettendo in discussione una società quella statunitense nata sulla schiavitù e sulla tratta atlantica e quindi nel momento che una minoranza comincia a parlare si dice ah vogliono cancellare quindi non è sempre così non è sempre cancellazione anche perché alcune delle statue che sono state prese di mira negli Stati Uniti non erano statue storiche cioè erano state fatte negli anni cinquanta negli anni sessanta negli anni settanta per sfregio o a a proprio la lotta per i diritti civili quindi sono state molto molto problematiche e anche io secondo me l'unica cosa che possiamo fare è quello che ci ha detto Alessandra la professoressa d'Arquini cioè di eh guardare caso per caso cioè di di non non possiamo fare eh una regola comune ma dobbiamo veramente guardare caso per caso e mh per quanto riguarda la domanda su cosa costruire cosa non e dobbiamo pensare che tutto è legato anche alla rimo io penso al colonialismo ma potrebbe anche essere altro però ecco alla storia coloniale è stata una storia rimossa e quando si dice storia rimossa non è soltanto storia rimossa dell'elite dai media ma da ognuno di noi cioè magari io no perché ho la la l'origine l'identità l'identità che ho però vuol dire che ogni italiano ha rimosso e ogni famiglia italiana c'è un libro che vi consiglio assolutamente di leggere Sangue Giusto di Francesca Melandri dove questo è molto chiaro dove la rimozione familiare c'è questa bellissima scena dove una una donna una giovane non giovane però matura romana Ilaria eh Ilaria Profetti si trova davanti l'uscio di casa un ragazzo nero che gli dice guarda io e te siamo parenti lei non aveva idea della storia fascista e colonialista del padre e da lì comincia a scavare ed è uno scavo archeologico quello che fa il personaggio di questo libro e e secondo me questa cosa poi succede nelle famiglie ma succede anche appunto nello stato nella nazione quindi dobbiamo forse cominciare tutti quanti ad aprire gli armadi di famiglia e poi apriremo lo spazio urbano secondo me quello è veramente fondamentale l'ultima cosa che volevo dire sulle borgate io mh ho pezzo un pezzo di vita a prima valle e adesso abito da tutt'altra parte e mh parlavo con molte persone che vivevano a campo di fiori e che a un certo punto proprio perché la città è spelle no la città soprattutto il centro storico è diventato un centro turistico e con la pandemia abbiamo visto che questo turismo era ha creato il vuoto no cioè noi abbiamo un centro storico tutto da ricostruire tutto da risistemare a livello relazionale è un uno spazio vuoto dove non ci sono relazioni e erano abitanti del centro che non hanno più potuto abitare al centro quindi sì sarebbe molto interessante se si potesse fare una un lavoro di storia orale andare a sentire uno per uno le persone no che sono state veramente deportate e l'ultima cosa invece velocissima sull'interesse per roma secondo me roma è sempre la città in crisi cioè non è la prima volta che in crisi è proprio nei duemila anni di storia di più di duemila anni di storia di questa città alti e bassi continui però è proprio quello che la fanno la fa di essere roma no perché questi alti e bassi sono significati momenti di morte di rinascita e secondo me è questa questa città ha proprio nel suo dna il fatto di avere tante storie ogni tanto una di queste storie si illumina di più quindi in un certo senso siamo fortunati abbiamo abbiamo tanto da scoprire e tanto da anche da condividere perché anche noi ognuno di noi è un pezzo della città di roma grazie giabba in effetti molte cancellazioni come lo sveltramento di borgo hanno aperto nuove storie come quella di garbatella per fare soltanto un esempio diciamo di storie che si muovono da una parte all'altra allora alessandra tarquini a te l'intervento conclusivo insomma i temi sono caldi dicevamo due minuti no no poi no 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 io rispetterò quello che abbiamo detto quindi due minuti e mezzo e e quindi ovviamente non potrò rispondere alle tante questioni che sono state sollevate che sono importanti e perché che insomma ciascuna di queste meriterebbe molto di più però mi sono rimaste impresse alcune alcune cose da tutto quello che è stato detto e cioè è la prima cosa che mi viene da dire prima parlavamo di memoria collettiva no allora la memoria collettiva è un qualche cosa che noi creiamo oggi ogni giorno nel nostro presente quindi non c'è una memoria collettiva statica ferma questo significa che collettivamente individualmente politicamente noi facciamo delle scelte e non le possiamo fermare una volta per tutte cioè quello che voglio dire è che se in una data epoca erigere un monumento a Cristoforo Colombo può sembrare una cosa bella e buona oggi altri direbbero di no e allora è la collettività che sceglie cioè fino agli anni non so 60 lasciare il monumento dell'obelisco di Mussolini o di altre cose forse nessuno si interessava poi 70 poi 80 la sensibilità cambia e cambia il nostro rapporto con il passato quindi intanto non lo possiamo fermare per fortuna la città si muove noi con lei e così si muove il nostro rapporto con il passato e dopodiché io credo quello che possiamo fare è assumerci delle responsabilità cioè conoscere non rimuovere appunto ma conoscere quindi se uno conosce la storia difficilmente sarà d'accordo con l'affermazione della Meloni che non mi ricordo scusa se Marta ricordava cioè lì perché perché appunto mettere insieme cose che non possono stare insieme effettivamente diventa difficile se uno un po' conosce e qui io credo che questo è un po' una così forse un richiamo a noi stessi perché è vero le collettività contano appunto ma questo richiamo alle storie personali alla nostra curiosità al nostro essere partecipi in un luogo questo forse anche un fatto che noi possiamo possiamo fare dopodiché in tanti degli interventi oggi è uscito fuori il fatto che le persone tutti noi non conosciamo la storia eh questo è un altro grande tema forse ehm eh che c'è ci non lo so se se è colpa di chi degli storici della scuola delle famiglie di 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 tutte queste cose messe insieme però certo ecco una banalità delle venti e quindici conoscere la storia è un fatto importante e quindi che più ne sappiamo e più la studiamo e più riusciamo appunto come dicevo prima a non rimuovere e a metabolizzare e quindi anche poi a scegliere era un richiamo cioè questo che facevo al fatto che dobbiamo anche come dire rispettare le scelte degli altri che hanno fatto la statua a Gandhi o a o a Mussolini e al contempo prendere le distanze e dire che siamo diversi possiamo fare entrambe le cose rispettare la storia rispettare la diversità e dire chi siamo noi non so se mi sembra un bellissimo appello di chiusura dall'alto della cattedra professoressa Tarquini un appello studiate la storia studiamo la storia ma è vero soprattutto che dobbiamo fare dei distinguo ecco penso che nell'intervento dell'onorevole Meloni quello che spicca appunto mettere assieme un patrimonio storico come Palmira eh una distruzione politica delle statue come eh appunto delle statue dei Buddha come quello che è avvenuto e eh la cosiddetta cancel culture chiaramente un conto significa il patrimonio storico un conto è invece magari eh rendersi conto che la statua di Colston ad esempio è considerata quella di un benefattore della città e che invece dietro c'è una storia diversa e quindi capire come poi tutto questo può essere problematizzato d'altronde anche il muro di Berlino a cui faceva riferimento mi sembra Tiziana in realtà è stato distrutto anche in maniera molto violenta c'è stato un fiume di persone che si è che ha attraversato in quella notte eh storica per l'appunto le fratture del muro proprio perché effettivamente in quel caso abbattere un simbolo di separazione aveva eh un ruolo diciamo simbolico storico importante poi chiaramente una traccia si può si può sempre mantenere quindi probabilmente ogni tipo di intervento deve essere ehm deve essere complesso ecco deve avere dietro un'idea di complessità ricordando il tema della della via ambaradan dove dove ci sarà anche una fermata della metro C per esempio in quel caso io da romano faccio molta fatica a togliermi questo birignao dove ambaradan significa confusione casino senza ricordare quello che c'è dietro quella parola però nello stesso tempo il tentativo appunto di eh portare all'attenzione la storia di Giorgio Marincola in questo caso quindi di eh un partigiano nero che eh diciamo è portatore di una storia poco conosciuta può essere l'esempio come un contrasto magari può portare appunto a conoscenza eh che è un po' anche l'obiettivo diciamo che ci prefissiamo con questo laboratorio allora abbiamo un po' sbordato con i tempi ma io ringrazio tantissimo Gia Basceco tantissimo Alessandra Tarquini per i loro interventi e ovviamente tutti voi grazie davvero e ovviamente tutti voi per le domande ci vediamo mercoledì prossimo sempre alle sei parleremo eh diciamo di come si forma quali sono i criteri di una commissione toponomastica eh con il professor Stefano Gerace con Barbara Belotti invece parleremo di toponomastica femminile che è assai scarsa in coma e quindi ci sarà molto da parlare grazie ancora e buonasera da tutti grazie a tutti